Va bene, buongiorno a tutti, grazie di essere qui, questa conferenza stampa molto importante per noi, stamattina finalmente la prima occasione di rappresentare plasticamente questa bella squadra che si trova ai nastri di partenza in una campagna elettorale affascinante, molto importante, penso che le persone che vedete sedute dietro questo tavolo questa mattina siano la risposta migliore, lo dico ancora una volta, a chi per giorni e giorni ha fatto girare artatamente la voce di un mio imminente ritiro, come vedete non solo non ci stiamo ritirando ma insomma siamo abbastanza carichi e pronti per questa campagna elettorale con una compagine molto ampia, molto rappresentativa che io sono molto contenta di raccontare oggi. Dietro questo tavolo ci sono le cinque liste che sostengono la mia candidatura al sindaco di Roma.